La Puglia ha certamente delle risorse, delle potenzialità enormi per far sì che il turismo davvero possa esplodere dalle nostre parti. Penso alle meravigliose, incantevoli risorse, bellezze naturali, paesaggistiche, penso al patrimonio storico, culturale, archeologico. E Taranto, ovviamente parliamo di Taranto, della capitale della Magna Grecia. Una Taranto che effettivamente dovrebbe essere al centro di uno sviluppo turistico, di una crescita del territorio attraverso il turismo, anche come alternativa alla monocultura dell'acciaio. Ne parliamo con l'Avvocato Patrizia Bocconi che è candidata al Consiglio regionale pugliese. Diceva bene una Taranto meravigliosa, sotto più aspetti, ma una Taranto trascurata, una Taranto ormai abbandonata nonostante le meraviglie nascoste e non della nostra città. Basti pensare a Taranto vecchia, io sono tarantina doc, puro sangue, dico sempre. Taranto ha delle bellezze esagerate e non valorizzate nella maniera più assoluta da nessuno. Sono vent'anni che Taranto è trascurata sotto tutti i punti di vista. Ma io partirei proprio già dalle scuole, cioè partirei da insegnare proprio fin da piccoli e bambini ad apprezzare e ad amare le nostre risorse. Non è possibile che si devano organizzare e bisogna andare a vedere le bellezze artistiche delle altre città con quello che abbiamo noi, con quello che possediamo noi. Taranto basta girarla per innamorarsi. Io sono innamoratissima della mia città e quindi vorrei e proporrò sempre fino all'avvenimento di valorizzare la mia città e tutto quello che davvero ha. Dal mare, dal nostro litorale, alle nostre chiese, a Taranto vecchia, al nostro lungomare, a tutto ciò che Taranto ha di più bello.